Si allarga la squadra parlamentare del nuovo partito di Matteo Renzi e anche la deputata molisana Giuseppina Occhionero ha aderito a Italia Viva, lasciando liberi uguali con cui era stata eletta nel 2018 grazie ai resti nazionali con il Rosatellum. Ho seguito i lavori della Leopolda, mi è piaciuto il progetto, è valido, guarda il futuro e mi dà la possibilità di valorizzare il mio Molise. Queste le dichiarazioni ufficiali della deputata di Campomarino dopo le indiscrezioni delle ultime ore. Anche i miei compagni di viaggio sono per lo più giovani e brillanti e poi le donne di Italia Viva hanno un ruolo centrale dal ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova alla capogruppo Maria Elena Boschi. Spero di poter dare un valido contributo anche in questo senso. Secondo l'Occhionero, anche in Molise, ci sono tanti sindaci e amministratori a cui non piace la politica dentro il palazzo e che hanno voglia di diventare protagonisti. Il mio vero obiettivo, ha commentato la parlamentare, è proprio quello di lavorare per fare il bene dei miei concittadini e della mia regione e dalle parole che ho scambiato con Renzi ho capito che questo percorso è possibile, ho aggiunto l'Occhionero. La deputata in questi mesi con l'EU, seduta al fianco di Pierluigi Bersani, si è distinta per numerosi interventi in aula. Un ringraziamento speciale lo fa i colleghi di Liberi Uguali, con i quali il rapporto è ottimo, ha dichiarato, e con cui continuerò a lavorare agli stessi temi che ci legano. Ma in questa fase, l'EU ha precisato, è sembrata una serie di appuntamenti rinviati. Non si è costituito un partito, perdendo quello slancio che aveva avuto all'inizio verso una prospettiva futura, ha concluso. Un futuro con un'offerta politica in grado di soddisfare donne e giovani, invece, la deputata l'ha trovato in Italia viva. Una forza che sa guardare al centro, come ha spiegato in una sua intervista al quotidiano Il Foglio, e in cui voglio portare i miei ideali di sinistra per guardare al futuro.